Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No, il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune! La resa religiosa dei preti al progresso del dopoguerra. Il Concilio Vaticano II è stato accolto anche dalla stragrande maggioranza dei sacerdoti delle parrocchie, per cui, oltre alla vergogna della maggioranza dei 2400 vescovi, verso le Chiese protestanti o riformate, verso le altre religioni e verso il comunismo, c'era anche il complesso di inferiorità e il senso di colpa dei preti, specialmente nei confronti del comunismo, nei confronti dello sviluppo economico del dopoguerra, nei confronti dell'uomo degli anni Sessanta. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'interno di un periodo di crescita economica ininterrotta e impetuosa a partire dal 1945, e quindi nell'illusione di un futuro di sviluppo quasi illimitato, la maggioranza dei vescovi e dei preti non ha più retto spiritualmente alla contrapposizione col mondo e hanno finito per dargli ragione. Insomma, hanno giudicato in errore le scritture, che condannavano il mondo, e si sono convertiti al progresso, per cui la Chiesa e il cristianesimo dovevano essere aggiornati, rinnovati e cambiati. In questo modo, hanno cominciato col rinnegare il mondo europeo, con la sua storia, il suo passato, in quanto, essendo stato influenzato per la maggior parte dal cattolicesimo, sarebbe stato più cattivo rispetto al mondo protestante, perché, per esempio, avrebbe dato solo monarchie e dittature, avrebbe dato ben due guerre mondiali, avrebbe dato solo analfabetismo e povertà tecnologica, avrebbe dato solo sfruttamento dai padroni. Invece, il mondo del progresso, specie quello anglo-statunitense, sarebbe stato quello buono, perché, per esempio, aveva terminato la prima e la seconda guerra mondiale, aveva sconfitto il male, ossia il nazismo, aveva applicato la solidarietà alle popolazioni bisognose, attraverso il piano Marshall, aveva sostituito le monarchie e le dittature con le democrazie, aveva avviato la decolonizzazione dei paesi del terzo mondo, aveva procurato la luce elettrica, il frigorifero, la lavatrice, aveva procurato un benessere diffuso, aveva creato il primo sviluppo elettrotecnico della storia dell'umanità. Insomma, dato che il mondo protestante aveva dato numerose dimostrazioni di bontà, allora la Bibbia e la Chiesa si erano sbagliati a condannare il mondo, l'uomo e il protestantesimo. Pertanto, secondo i Vescovi degli anni Sessanta, 1. La Chiesa doveva cominciare ad ascoltare le ragioni del mondo, e 2. La Chiesa doveva cominciare ad imparare dal mondo, per esempio l'adozione del sistema democratico con il tentativo di mettere l'autorità del Collegio dei Vescovi allo stesso livello dell'autorità del Papa. Per non far fare troppo brutta figura alla Chiesa, i verbi imparare e ascoltare furono riassunti nel verbo dialogare. dunque, in pratica, la Chiesa doveva smettere di predicare e convertire, e doveva cominciare a dialogare col mondo, a cominciare coi protestanti e coi comunisti. Pertanto, nelle parrocchie, i preti dovevano rinunciare a proporre all'uomo la conversione a vivere secondo religione, perché forse il mondo poteva interpretarla come una colonizzazione culturale. Dal Vaticano II, la conversione sarebbe dovuta partire solo dalla libertà del soggetto, senza alcuna proposta che potesse influenzarla. Dunque, non più l'insegnamento del bello, del buono, del giusto e dei vantaggi spirituali, ma solo l'esempio. Non più i maestri, ma i testimoni, secondo una famosa frase ad effetto di Paolo VI. Il mondo non ha bisogno tanto di maestri quanto di testimoni. Oni, oni. Oni. Questa è l'origine della scomparsa degli argomenti dell'essenziale della religione, come la somiglianza divina dell'uomo, la prosecuzione della vita dopo la morte, il giudizio sul bene e sul male a valori assoluti, il paradiso, purgatorio, inferno, ecc. Verso il mondo, la Chiesa doveva passare dalla guida del mondo ad essere guidata, poiché anche dal mondo poteva sviluppare la sua teologia. Per esempio, se da quarant'anni, nel 1960, esisteva il comunismo e si era diffuso a livello mondiale, allora doveva esistere un buon motivo per tutto ciò. Il comunismo doveva essere buono da qualche parte. E se lo era, allora esisteva per volontà di Dio. Logico, no? Certo, nel 1960. Perché poi, nel 1991, a Mosca, il primo maggio, c'era lo striscione 70 anni di marcia verso il nulla. Ricapitolando, il complesso di inferiorità del clero verso il mondo e il senso di colpa verso il passato della Chiesa, come testimoniato dal cardinale Eugenio Pacelli già nel 1933, hanno portato alla vergogna verso la Chiesa. La vergogna ha portato a stravolgere i lavori del Concilio, che altrimenti sarebbero durati due mesi, non tre anni. Ma questo lo vedremo dettagliatamente nella prossima indagine. Stravolgere i lavori del Concilio in modo da aggiornare, rinnovare e cambiare la Chiesa e, di conseguenza, la religione. Per il tentativo di migliorarla agli occhi del mondo, di fare in modo che il mondo guardasse alla Chiesa con interesse e magari partecipazione. Infatti, la speranza del clero, tutto, dai vescovi ai sacerdoti, era che le migliorie alla Chiesa apportate attraverso il Concilio avrebbero attirato il mondo. Quindi il mondo si sarebbe convertito e così anch'esso sarebbe migliorato. Un processo di conversione del mondo spontaneo, autonomo. Oggi il risultato è l'insignificanza della religione e della Chiesa. Perché, banalmente, o un'istituzione guida il mondo in qualche aspetto, oppure serve a niente. Infatti, qualunque entità guida il mondo, la politica guida il mondo, l'economia guida il mondo, la tecnologia guida il mondo, la scienza guida il mondo, l'ONU guida il mondo, la Banca Mondiale guida il mondo. Solo la Chiesa non lo fa più. La Chiesa dialoga e ha imparato a ripetere la sapienza dell'uomo di mondo. Segui la coscienza, fai quello che ti senti di fare, farai solo bene e andrai in par. Forse si può fare uno striscione analogo a quello di Mosca. 59 anni di concilio verso il mondo. La dimostrazione dei nuovi messaggi del Vaticano II Aggiornamento, rinnovamento, cambiamento. Indaghiamo una piccola dimostrazione, che vale per due, del nuovo comandamento conciliare aggiornamento, rinnovamento, cambiamento, riguardo la Chiesa e il cristianesimo. Paolo VI e il sito vatican.va fornisce il discorso di Papa Paolo VI alla cura romana. Per Giovanni XXIII il concilio doveva essere un aggiornamento. Paolo VI riparte da Giovanni XXIII e però indica qualcosa oltre l'aggiornamento. Indica un perenne rinnovamento. Ma un perenne rinnovamento, un continuo rinnovamento, provoca inevitabilmente un cambiamento totale. Nella sesta parte la dimostrazione dei nuovi messaggi del Vaticano II aggiornamento, rinnovamento, cambiamento e il postconcilio più importante del concilio. Indagatore, ci sentiamo! Buongiorno! e indagatore qua c'è il prossimo video Grazie per la visione